Martini, piccolo uomo, questo per Ilaro, questo per Francesco, auguri! Ma tu che fessere voi, non fate la curva a sud, come dice il maestro, era la curva a sud del Milan, la curva a sud del Milan nel pub di Londra non si vedeva, la curva a sud del Milan aspettava Totti, ma non solo, vi voglio dire una cosa che pochi hanno notato, Dzeko che ha segnato nel campionato anche più gol di Guain, se è per questo, si è toccato la gamba e sapete che Dzeko aveva protestato per la sua sostituzione, si è toccato la gamba e ha finto, a pochi minuti dalla fine, ha finto di essere un po' claudicante perché voleva far entrare Totti, ha fatto un segno, il portiere ha buttato la palla fuori perché i giocatori, la squadra chiedeva Totti in campo e se fosse entrato avrebbe segnato il rigore, questo Spalletti deve sapere che a Roma non lo dimenticheranno mai! Il giorno dopo Milan-Roma nella capitale si parla molto del mancato impiego di Totti, acclamato dai tifosi del Milan ma è rimasto in panchina, sentiamo un po' l'opinione dei tifosi della Roma, venite! Per me Spalletti ha sbagliato proprio alla grande, ha sbagliato, pure perché non sono merita Totti? Ti vengono le lacrime all'occhio proprio perché la storia di Roma, la storia del calcio è almeno 5 minuti Francesco Totti è un idolo perché è il significato veramente della Roma Totti è Totti, il capitano è il capitano e mi dispiace come sta a trattare Spalletti Spalletti per me ha ragione, per me Spalletti, io sono uno per Spalletti, sono anche con Totti per carità perché Totti è però Spalletti per me è un grande allenatore Secondo me si sta dando troppa importanza a Totti e poco alla squadra Anche noi meritiamo di vederlo giocare perché ci ha regalato solo emozioni da quando gioca 5 minuti ieri a Totti o doveva far giocare, anche perché stavi a vincere non c'era niente da perdere Un trattamento che un giocatore del suo livello non merita, un po' più di rispetto magari per quella che è una delle ultime bandiere del calcio italiano L'ottavo rete di Roma, la storia è Roma, Roma Toccare Totti è un sacri legge Io non lo so, non so quello che farà Totti So solo che hanno sbagliato a comportarsi in un certo modo con Totti Ha sbagliato innanzitutto Luciano Spalletti che è un bravo allenatore, non lo metto in dubbio Però psicologicamente ha sbagliato a far giocare un campione e una bandiera Come Totti, 5 minuti, 7 minuti, tanto per dare un contentino Ha le bandiere, non si dà il contentino Tali fatto che per come lui si è comportato con la maglia della Roma Avrebbe meritato una conclusione più elegante È una persona per bene E i dirigenti della Roma, al di là di Spalletti, devono sapere che la curva romanista ha un solo capitano Questo è Francesco Totti Ti voglio solo dire questo, non è una questione irrazionale, non è una questione di religione Vado a vedere la Roma da 56 anni, ne ho 68, 56 anni Un giocatore come Totti a Roma non c'è mai stato E credo che difficilmente lo vedrò più, io e tanti come me Non verrà più fuori un giocatore come Totti Se un allenatore non sa gestire un campione, non è un bravo allenatore Ringetevi realmente la mano, devo andare sugli altri temi perché c'è Milano che piange Abbracciatevi, Liguori